Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Sangro Rosso Nero, vi invito a iscrivervi al canale e a mettere sempre un like. Allora ragazzi, andiamo ad analizzare quella che è la vittoria appunto della squadra del Milan di 1-0 verso il Torino. Innanzitutto, premettiamo che abbiamo avuto comunque un tour de force in questi sette giorni tra derby, Coppa Italia e Torino. Dunque, giocano sempre gli stessi praticamente, non c'è un attimo di despiro, qualche infortunio di troppo come Cialanoglu e come durante la partita abbiamo visto, Simon Chieri è uscito fuori, sembra per uno stiramento. Dunque, non era così semplice come può sembrare vincere questa partita, un Torino che aveva appena cambiato allenatore. Saluto appunto quello che è un altro youtuber, Granata, Mirko, gli mando un abbraccio. Ragazzi, parlando insomma della partita, incominciamo col dire che nel primo tempo abbiamo visto un Milan molto aggressivo, un Milan che è andato sicuramente con un pressing molto alto, a volte anche in maniera confusionale, in maniera molto frenetica. Partita dei due volti, se vogliamo, col primo tempo dove il Milan ha avuto varie occasioni di gollo, un Torino volenteroso che ha sbagliato molti passaggi, specialmente in uscita. Per quanto riguarda il secondo tempo abbiamo visto invece una partita in cui il Torino nei primi 20 minuti ha attuato un pressing molto più alto, mettendoci anche in difficoltà, ma essenzialmente non creando grandi pericoli alla porta di Donnarumma. Dunque, l'organizzazione difensiva da questo punto di vista è stata abbastanza buona. Ma abbiamo sbagliato ragazzi, tantissimi contropiedi, tantissime occasioni sbagliate, Zlatan che ha dato vicinissimo al gol, un paio di contropiedi appunto, un errore colossale di Castilleio davanti alla porta sul centro-destra. Dunque bisognerà sicuramente migliorare quello che è la fase conclusiva e la fase di ripartenza. Buona, ma appunto arriviamo lì e ci mangiamo sempre gol. Oggi non è stata chiusa la partita, è bene come è andata che siamo riusciti comunque a strappare la vittoria. Sa di fatto che ora ganciamo comunque il sesto posto, utile per la zona Europa League, con 14 partite al termine della stagione. Non voglio parlare di altro sicuramente perché l'Atalanta è a più di 7-10 punti di vantaggio e dunque lasciamo perdere il quarto posto, ma possiamo sicuramente vedere dei margini per iniziare un bel filotto di vittoria. Non mi dilungo molto su quello che è stata appunto la partita a Milano-Torino, dove comunque abbiamo un Toro che ha cambiato da poco allenatore, dunque sicuramente un impatto aggressivo e molto positivo quello del Torino, che comunque pecca dal punto di vista della costruzione della manovra, a mio modesto parere, e anche al centrocampo vedo molta poca qualità da parte dei Granata. Per quanto riguarda quella che è stata la nostra costruzione di gioco, tutto è partito sempre dai piedi di Romagnoli, specialmente quando è uscito Kiar, è l'entrata nell'ingresso in Serie A, appunto Gabbia. Benassert mostruoso, dunque ragazzi, a breve penso già di fare le pagelle, magari possiamo già dire essenzialmente che Donnarumma, io metterei un senza voto onestamente perché non ha praticamente dovuto effettuare quasi nessuna parata, diamogli un 6 comunque di fabbrica classico a Gigio. Calabria, altra prestazione positiva dopo appunto quella che è stata la prestazione in Coppa Italia contro la Juventus, dunque tutto sommato un Calabria attento, propositivo, le qualità sono sempre quel che sono, mi sento di darle appunto un 6 di fiducia. Per quanto riguarda Kiar, fino al suo ingresso è partito da 6 e mezzo, attento, non ha fatto toccare una palla a Belotti, sempre propositivo, peccato per l'infortunio, speriamo che non debba averne troppo a lungo. Per quanto riguarda Gabbia, ragazzi, appunto un giovane di 20 anni all'ingresso in Coppa Italia del Milan a San Siro non è mai una cosa semplice. Partita con 2-3 interventi ottimi nell'uno contro uno, non si è fatto mai saltare, attento in marcatura, col passato dei minuti il ragazzo ha preso anche sempre più fiducia, mi sento di incoraggiarlo di darlo in bel 6 e mezzo. Romagnoli partita da 7 e mezzo senza ombra di dubbi, finalmente abbiamo visto il capitano in ripresa nelle ultime due partite, post derby con Juve col Toro, dunque un Romagnoli attento, un Romagnoli appunto sempre in anticipo su quello che è la punta che è stata azzarda negli ultimi minuti e precedentemente Belotti, sicurezza appunto sulle palle da fermo e in marcatura. Per quanto riguarda Teo, Teo alterna sempre una fase offensiva spaventosa dove strappi e che crea supererga numerica, difensivamente in primo tempo qualche macchia di troppo. Nel secondo però bisogna dire molto attento, non si è fatto mai saltare, anche un paio di interventi molto utili sulla fascia sinistra, fase difensiva dunque anche per Teo partita da 6 e mezzo. Per quanto riguarda Kessy, forse è il giocatore un po' più in ombra, sì fisicamente sempre utile per carità, ma in fase conclusiva, soprattutto in fase di impostazione, veramente poca roba, dunque un 5 e mezzo per Kessy, magari mi direte che sono un po' prefissato contro Kessy, che ce l'abbiamo Kessy, ma non è così, cerco di guardare in modo molto obiettivo quella che è la prestazione al di là dei miei gusti. Benasser, ragazzi io Benasser mi sento di darle 8, perché non si è fermato un cazzo di momento, inesauribile, recupera palloni in quantità industriale, magari troppo aggressivo spesso nell'intervento nel rubare palloni, ma ottimo anche nel fase di impostazione, nel verticalizzare, non ha paura soprattutto quando riceve palla ridosso della nostra difesa, si gira sempre con rapidità, salta l'uomo, veramente un giocatore che sta diventando essenziale e importantissimo, in un'altra squadra sarebbe già un top, o se non un top sarebbe comunque un giocatore bello da valutazione dai 50-60 minuti dietro senza un predilubbio, dunque ben a 7, non ce l'ho stretto, perché davanti a difesa dei giocatori così non si ritrovano facilmente. Per quanto riguarda Cassileio, per l'impegno gli do sicuramente un 6,5, porca miseria, ogni volta che arriva davanti alla porta è una sciagura, o la ciabatta fuori, o la tira alta in tribuna, ma non inquadra veramente quasi mai la porta, migliorasse in fase conclusiva sarebbe sicuramente un'ala di tutto rispetto, resta comunque un giocatore modesto, apprezzabile comunque, perché rispetto a Susso, non avrà le qualità di Susso, non inquadrerà la porta, però perlomeno fa dei ripiegamenti di 50 metri sulla fascia, su e giù continuativamente, dunque un giocatore comunque utilissimo senza ombra di dubbio. Per quanto riguarda la prestazione di Ante Rebic, un 7, primo tempo sicuramente molto migliore del secondo, con un ante in fase conclusiva pericoloso, salta continuamente l'uomo, dialoga benissimo con Ibre, su storie di tagliare al centro, sempre pericolosi, nel secondo un pochino a sprazzi, ma da 5-6 partite che sta tenendo un rendimento altissimo, lui chiede la continuità, non ha mai fatto il suo forte, dunque comunque è degno di nota, è apprezzabile. Un giocatore sicuramente sul continuo da puntare, che ci tornerà utile magari anche nella prossima stagione. Paquetà, questa è la mia più grande deduzione, Paquetà ha avuto 5, molto impreciso in fase d'appoggio, molto impreciso in fase di 1-2, molto impreciso nell'ultimo passaggio, spesso perde anche il tempo dell'assist verso il compagno, sicuramente da recuperare, perché con l'infortunio di Giannobu non sappiamo quanto ce la ne starà fuori, ma bisogna cercare sicuramente di recuperare Paquetà, anche se l'ingresso di oggi, per le qualità che è il ragazzo, l'ingresso, la prestazione di oggi, mi fa veramente incazzare. Zlatan, voto 7, in forse concursione, dato vicino ai gol in un paio di conclusioni, ma per il resto comunque sulle palle alte, non ha perso una palla, protegge il gioco con intelligenza, anche in una partita dove comunque non è stato ben servito. Dunque, un zlatan tutto sommato positivo. Per quanto riguarda Pioli, stavolta ha messo bene la formazione in campo, ottimo l'approccio della squadra, dunque bisogna dargli merito, un 6 e mezzo per Pioli. Per quanto riguarda l'ingresso, le ha senza voto e per quanto riguarda invece Buonaventura, non mi è piaciuto molto il suo ingresso, sempre due o tre tocchi, perdere la giocata decisiva, da sempre con l'impressione di indolenza, di giocare sempre quasi contro voi, dunque gli do un 5 a Jack. Dunque ragazzi, ora, i prossimi appuntamenti saranno comunque fondamentali per la nostra classifica, per cercare comunque di salire a meno, di avvicinarci al quinto posto. Che dire, auguro buona fortuna a Torino, comunque una squadra che ha bisogno di ritrovarsi, dopo un campionato prettamente deludente, ma dal punto di vista del Toro io darei fiducia all'ongolo, conosce comunque il settore giovanile del Torino, conosce bene l'ambiente, e l'idea di calcio che ho mostrato penso che sia abbastanza positiva, comunque un pressing e ritmi molto alti, sicuramente avrà bisogno di tempo, ma magari conquistando un allenatore giovane, se ci potrebbe il Toro, forse nel Toro, ci punterei per il futuro su questo nuovo allenatore. Vi mando un abbraccio ragazzi, sempre e solo, forza a Milano, ciao!